eccola qua la riunione diretta aspetta 20 secondi che vada in boffering facciamo va bene come siamo tecnologici ok perfetto siamo connessi ok buonasera a tutti ben arrivati a questa bellissima diretta questa sera una cartolina allora questa sera abbiamo come ospite ormai una cara amica anche da tanto tempo sono tanti anni già e abbiamo una amica Antonella D'Amato questa sera in diretta da una baita di montagna del Friuli una baita di montagna con la neve del Friuli che ci parlerà di un argomento molto interessante un ringraziamento va anche a tutte le persone che sono entrate nel gruppo Whatsapp che è una grande novità dove potete rimanere sempre aggiornati sulle dirette che vengono trasmesse perché magari se non entrate spesso in Facebook grazie a questa metodologia questa tecnologia potete ricevere in orario nella giornata le dirette che vengono effettuate in serata quindi se vi interessa potete ancora aderire nel link del collegamento all'inizio della pagina basta che cliccate e automaticamente è una chat solamente di servizio di comunicazione non si comunica fra utenti quindi arrivano solamente gli avvisi questa è una bella iniziativa che ringrazio anche Gina per aver concesso questa bellissima novità sperando vi faccio piacere a tutti un ringraziamento Bagina questa sera che ci consente di fare questa bellissima diretta una diretta molto particolare che è cara anche a me per alcune particolarità stasera Antonella parlerà un po' della vegenza, della chiarovegenza che cos'è, che cosa sono gli spiriti, che cosa manifesta, come si manifestano che cosa avviene dal punto di vista anche nevologico se vogliamo così dire durante la forma di contatto e a questo punto lascio la parola a Antonella che ormai è già parte fissa del gruppo che è già invitata già, speriamo già anche a gennaio comunque ci do già l'appuntamento ecco anche se vi interessa ricordo tutti che il 22 dicembre alle nove e mezza circa ci troveremo tutti per una diretta di 20 minuti per scambiarci un po' gli auguri con tutti quelli che anche tu sei pubblicamente portata è un orario che è fattibile quindi penso va bene, va bene lascio a te la parola e io passo in secondo luogo e ogni tanto ti farò qualche domanda e ti lascio a te la telecamera va bene, grazie, grazie allora io in questa modalità purtroppo non vi vedo non vedo quante presenze ci sono però sento la vostra energia e sicuramente questa energia porterà delle grandiosità delle grandi idee, degli grandi spunti questa sera intanto ringrazio Gina Gina per avermi accolta per aver avuto fiducia di me perché insomma si è fidata sul nulla inizialmente non conoscendomi e quindi veramente grazie anche per l'intuizione questa è l'intuizione anche Gina e ti ringrazio per avermi ospite stasera e poi volevo ringraziare soprattutto Luca perché lui dice il mio piccolo lavoro insomma ragazzi voi non immaginate per avere questa efficienza nelle trasmissioni questa fluidità nell'ascolto e questi gruppi Facebook tutto quello che c'è di sponsorizzazione e c'è il suo zampino stai arrivando a scatti parla più piano perché c'è la connessione che ti sta andando a scatti e te lo dico quindi ok dicevo che tutto quello che c'è mi senti Luca? sì 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 però sembra che ci sia con nessun qualcun altro a casa e lì di staccare tutte le linee ok ok dicevo che tutto quello che c'è dietro tutto il marketing diciamo tutto il la pubblicità che c'è tutta l'internet la fluidità nei nostri incontri e tutti questi messaggi gli avvisi le partecipazioni agli appuntamenti gli eventi vengono creati anche grazie al tempo che tu dedichi a questo gruppo e quindi che è lo studio soprattutto io proprio il tuo giorno ti pensavo sei sempre più saggio infatti sono di capelli bianchi i più pochi che rimangono vedo che si sono un poco di rada no scherzo sono bianchi sono più bianchi sei sempre più saggio perché proprio l'altro giorno mi hai dato una che poi se vuoi condividerò con gli altri mi hai dato una tua pillola di saggezza ma veniamo a noi cari amici mi scambiano per spacciatore mi scambiano allora veniamo a noi ragazzi allora abbiamo tante cose belle di cui parlare ho voluto fare questo incontro su questa tematica in particolare perché è una delle primissime cose che mi chiedono che mi chiedete quando mi presento come veggente ok? non solo come medium medium è il tramite il contatto in questo caso si parla di veggente ma tu vedi? veramente? ma come li vedi? li vedi come io in questo momento? ma cosa vedi? ecco questa è una delle prime curiosità lecite normalissime che insomma che mi chiedono quando mi conoscono da questo punto di vista un po' più spirituale e questa è una cosa che veramente avrei voluto tanto approfondire e lo faremo insieme stasera allora proprio il titolo dell'incontro è nel corpo dello spirito e ovviamente come tante cose che riguardano la mia vita normale e anche questo titolo di questo incontro mi è stato suggerito dalle mie guide spirituali e perché si è voluto creare uno simoro l'ossimoro ve lo dico semplicemente è una figura retorica alla quale si associa un concetto al suo opposto avete presente un momento di lucida follia ecco il momento di lucida follia è un ossimoro nel corpo dello spirito è un ossimoro ma come lo spirito ma come può avere un corpo se noi immaginiamo che lo spirito sono come gli spiriti che vediamo nei film vapori non so fumi e come può avere un corpo ebbene cari amici oggi approfondiremo proprio questo il concetto di spirito che cos'è lo spirito il concetto di corporeità dello spirito è il concetto di visione noi siamo abituati o ci hanno abituato all'equazione semplice io non vedo quindi non credo quindi se non vedo non credo questa è la famosa frase di San Tommaso che poi noi la ritroviamo nel Vangelo di Giovanni ma nello stesso Vangelo di Giovanni Gesù per chi crede però ecco noi parliamo dei Vangeli Gesù diceva beati coloro che pur non avendo visto crederanno allora è questo il messaggio che io voglio trasmettervi un messaggio non cristiano un messaggio trasversale eh come possiamo dire eh che non che non che non coglie il senso della religiosità della parola quanto proprio un insegnamento personale e lo troveremo alla fine proprio a conclusione del percorso di stasera vedere e credere noi dovremmo ribaltare questa equazione e dire io non vedo perché non credo adesso questa può essere una frase un'affermazione che vi può sembrare un pochettino scomoda un pochettino strana ma vedrete che poi approfondendo e snocciolando vi renderete conto che probabilmente bisogna dare una chance no alla fiducia che noi riponiamo eh in noi stessi nella spiritualità e nelle nostre capacità e quindi la domanda che tutti quanti ci facciamo alla fine ma cosa vede il medium come vede il medium ma io posso vedere specialmente tanti di noi che hanno tanti per curiosità personale così per velletà per eh per migliorarsi come medium vogliono approfondire la visione perché non tutti i medium hanno anche la vegenza tanti medium hanno la non so altri doni ma parliamo oggi di vegenza quindi molti molti medium vorrebbero migliorarsi loro pensano migliorarsi approfondire curare o per curiosità avvicinarsi alla chiarovegenza alla vegenza e invece tanti perché hanno perso un caro quindi tanti per la perdita di un parente di una persona a loro cara e quindi tanti mi chiedono come faccio e io come posso vedere allora intanto andiamo partiamo per grandi eh significati partiamo per terminologia e parliamo del concetto di spirito come abbiamo detto abbiamo citato all'inizio parleremo di spirito la differenza tra spirito e anima è uno dei grandi temi dimmi se sbaglio eh Luca più discussi più intricati al mondo ma noi siccome sono da da poco da pochissimo in contatto con una guida eh con la quale scriverò un testo senza scendere nei dettagli che è di matrice teosofista allora lui mi ha spiegato un po' il concetto di anima e spirito e partendo un po' da io vi dico il nome di questo studioso chi vuole approfondirlo perché spesso chiedete dove posso leggere questi concetti Steiner in questo caso è Steiner allora guardate quanto è carina questa definizione no? partiamo dicendo che anima e spirito sono differenti ecco diciamo differenti fanno parte della stessa cosa ma sono differenti l'anima è la componente vi leggo tramite la quale l'entità umana ricava impressioni dalle esperienze che fa attraverso il corpo attraverso l'anima percepiamo con i sensi corporei e quello che percepiamo acquista un significato quindi cosa fa l'anima l'anima ricava un'impressione infatti tante volte noi diciamo mi hai preso l'anima no? l'anima resta impressionata da quello che i sensi umani percepiscono lo spirito dice invece è quella componente attraverso la quale abbiamo la possibilità di comprendere il significato intrinseco delle cose indipendentemente dall'impressione quindi se l'anima ha l'impressione coglie l'impressione lo spirito comprende al di là dell'impressione anima e spirito mentre l'anima si reincarna proprio perché l'anima è la parte diremo più emotiva ok l'anima si reincarna l'anima fa mille vite viene con noi ci accompagna lo spirito è quella scintilla quel calco di noi che resta sempre uguale a se stesso nella nostra casa quello che allora quello che vi sto raccontando ragazzi è quello che io so fino ad oggi è quello che mi raccontano le mie guide è quello che riesco a leggere sui testi quello che vi dirò domani può essere uguale può essere diverso può essere più arricchito e sicuramente anche io mi sto quindi non prendetelo come ho raccontato però io mi sto trasmettendo tutto quello che ho imparato fino ad oggi ecco semplicemente è quello che gli spiriti mi comunicano ancora quindi animo e spirito in realtà per quanto loro mi hanno raccontato al di là del fatto che l'anima è la parte più emotiva è la parte più vicina all'umano all'essere umano è la parte più vicina a noi è la parte che fa mille vite è la parte che si rincarna al di là di questo animo e spirito secondo gli spiriti possono avere la stessa composizione perché sono uno la fotocopia dell'altra uno il calco dell'altra pronti a ricongiungersi non appena poi la nostra vita terrena termina e quindi la nostra anima ci riporta nella nostra dimora quindi riporta tutte le nostre impressioni terrene i nostri ricordi e tutto il resto nella nostra dimora pronta a ricongiungersi pronta a ricordare pronta a tornare uno allora su questo ragazzi Luca puoi interrompermi quando vuoi migliorare quello che sto dicendo intervenire su questo io vorrei riportarvi un attimino su quelli che sono ma senza farla prolissa è una cosa semplice gli strati dello spirito e per farlo vi parlerò di questo libro ma proprio di qualche piccolo estratto seguimi ti condurrò in un posto bellissimo questo libro è stato pubblicato ad agosto dopo che è stato completamente dettato dal mio spirito guida che mi ha aiutato a comporre il libro e dopo mi ha salutato perché succede questo ragazzi che si chiamava che si chiama tuttora Elia questo questo spirito guida che aveva più o meno le mie caratteristiche era troppo chiacchierone questo spirito guida mi ha raccontato un po' la sua esperienza in parole semplicissime ecco perché io ve lo consiglio tanto alla fine non ecco non è che ci arricchiamo con questi libri alla fine non è che faccio una pubblicità perché diventerò un miliardario ma proprio perché così avete la possibilità acquistandolo e c'è sia in versione kinder che in versione cartacea avete la possibilità di leggere di arricchire la vostra curiosità più che altro questo spirito racconta il suo viaggio un po' per grossi capi possiamo carpire qualche informazione della sua vita terrena ma in realtà non parla della vita terrena parla proprio della sua esperienza animica nell'aldilà di quello che incontra delle esperienze che fa e di tutto quello che gli spiriti che lo riconoscono lo portano a visitare i posti che lo portano a visitare le nozioni che gli danno solo perché sanno che la sua missione sarà tornare sulla terra sempre come spirito come anima diremo ma come spirito saggio per raccontare a me tramite me tutte queste sue esperienze in modo poi da trasferirle da trasmetterle agli altri quindi questi spiriti sapendo che lui avrebbe intrapreso questo viaggio e aveva questa missione lo portano nei posti più importanti che è importante che noi conosciamo nelle primissime pagine di questo libro lui parla proprio degli strati dello spirito che devo dire Luca io ogni volta che leggevo i testi e leggevo di tutte come si compone l'anima al di là del corpo fisico eccetera era una cosa che mi annoiava un po' cioè io andavo a leggere le altre cose ma quella la saltavo però qua ho dovuto approfondirla e qui c'è non si scappa ragazzi non si scappa ci sono delle nozioni qua bisogna ti vieni preso per i capelli e devi allora tra le parti più importanti diciamo che poi scoprirete perché le stiamo scoprendo stasera sono allora il cono di luce il funicolo li leggo cono di luce funicolo per i andron i leganti e per i medium e i propulsori allora il cono di luce vi leggo delle parole veramente flash queste cose sono strati dell'anima quindi non del corpo fisico dell'anima quindi fate conto poi vi mostrerò anche le immagini perché questo spirito Elia mi ha anche mostrato delle immagini che io poi ho dipinto di mio pugno sempre secondo le sue indicazioni quindi attenzione non è una sorta di scrittura automatica io ho visto l'immagine l'ho riproposta cercando di riproporla quanto più simile possibile a quella che lui mi mostrava però di mio pugno non sentivo la mano che faceva da sola no di mio pugno e poi lui mi diceva se era giusto o sbagliato e anche l'uso dei colori se era corretto allora il cono di luce è un cono di luce bianchissima che è costituita di pulviscolo e che si illumina quando la nostra mente risplende per una forte emozione quello è il momento per noi di fare una chiamata a casa di essere più visibili per le anime coinvolte ad aiutarci o a festeggiare la nostra gioia è elastico e durevole è come sgranare gli occhi e indagare nell'immensità dei pensieri spirituali diresti di avere male alla testa all'altezza della fronte è come un telefono e dice ancora il cono di luce volge attorno a te e illumina anche la materia scura stai attento a non prestare attenzione a questi agglomerati di polvere perché il cono di luce come una rete li cattura questa spazzatura che poi affolla il cono di luce ti impedirà di vedere chiaramente soffocherà le tue energie e ti impedirà di chiedere aiuto il cono di luce è il tuo periscopio che ti permetterà di guardare avanti e avvertire prima quante volte ragazzi ci pensiamo mamma mia è come qualcosa che mi ha avvertito che non dovevo andare là non so mi sono sentito come qualcosa che mi avvertiva di non andare le famose percezioni le famose intuizioni ecco sappiamo dov'è può trovarsi la fonte di che c'è il funicolo il funicolo come la parola stessa dice è un cordone che unisce i vari stati animici allo spirito immortale vi ricordate prima ho detto che c'è lo spirito immortale che è sempre a casa nostra e che ci aspetta e la parte di noi è come una fotografia un calco di noi che noi lasciamo una scintilla che noi lasciamo là ok l'anima invece segue il corpo ok e si reincarna con noi come si collega con lo spirito immortale secondo le parole di Elia tramite questo funicolo allora guardate cosa dice è la nostra cintura di sicurezza è proprietà è autoappropriazione dell'involucro fisico è io sono la mia mamma e cercare e trovare tutte le risposte dentro di sé può essere più lungo o più corto e può avere diversi colori che dipendono dallo spettro cromatico rilasciato dal proprio spirito al momento del rilascio del gruppo terrestre lo spettro cromatico è un discorso da trattare a parte il funicolo diventa però argente o dorato quando lasciamo il corpo perché sia sottilia per allungarsi te lo starai chiedendo sì è infinito allora dice Elia questo funicolo questo cordone questa cintura di sicurezza ha dei colori che dipendono dal gruppo familiare diciamo così senza approfondire troppo però dice che più ci allontaniamo più arriviamo più il nostro anima raggiunge si allontana o raggiunge l'anima lo spirito immortale più si assottilia questo cordone più diventa argenteo attenzione qua cosa dice il funicolo si collega prevalentemente all'altezza della schiena qua dietro quando usciamo dal corpo volontariamente sono i famosi near body experience quelli che fanno la prova non so uscire fuori dal corpo non so come si chiamano quelle e obby bravo bravissimo quella esperienza extra cordone è proprio figo in inglese bravissimo l'esperienza di premorte quando noi usciamo dal corpo quando usciamo volontariamente dal corpo sembriamo appesi verso il basso quindi siamo appesi ma quando siamo chiamati ad uscire siamo sospesi verso l'alto anche se il cordone ci prende ci prende dalla schiena però in qualche modo siamo sospesi poi si parla del periandron il periandron è la parte più delicata dell'anatomia animica vi ricordate che l'anima è quella che prende le impressioni bene questa è proprio la parte più delicata il registro più delicato dell'anima infatti danneggiare il periandron è come prendere una botta alla testa è di colore rosso fuoco il periandron è il calco delle memorie è un insieme di cluster temporali è la nostra scatola nera è come la scatola la scatola nera degli aerei delle macchie dei veicoli no come abbiamo accennato localizziamo il periandron all'altezza del cranio partendo dalla parte occipitale destra fino alla fossa cranica anteriore funge da protezione e difesa delle parti molli dello spirito tenute assieme dai leganti quindi voi immaginate questo è vero che sono strati dell'anima ma secondo gli spiriti rendono integro il corpo e ricordatevi questa cosa perché dopo ve la approfondirò perché proprio e questa è stata la scintilla che ha fatto scoccare questo genere di incontro di stasera perché loro suggeriscono tutto loro volevano che parlassimo di questo questa fascia ha la consistenza di puro vatta o se vogliamo dirla tutta di neve fresca malgrado il suo colore rimandi ad una sensazione di calore perché abbiamo detto che è rosso allora potremmo dire che è simile a un muscolo sì sarebbe verosimile anche il periandron può indebolirsi o infiammarsi gli stati infiammatori del periandron prevedono un'apertura involontaria e mi fermo qua lo definisce Elia il grillo parlante di immensa saggezza ci siamo quasi eh perché non voglio annoiarvi con questa però è importante che sappiate almeno i nomi e più o meno come sono fatti i leganti sono ghiandole che si trovano fra i vari stati animici nelle zone intramuscolari del corpo fisico e ritorna quindi non soltanto nello strato animico ma anche nel corpo fisico in buona sostanza avvolgono corpo e anima come fossero di nastri che rendono tutto più compatto e dimensionato sono il meccanismo che tiene tutto assieme e che nonostante la vastità di tutto quello che un corpo fisico propaga attorno a sé lo fa apparire compatto ed elastico al tempo stesso al di là del piano terreno eccolo siamo arrivati al di là del piano terreno appariamo come un semplice ammasso di molecole come fossimo costituite di pixels ecco perché parliamo di aspetto integro cosa ci sta dicendo Elia in questo momento come ci vedono gli spiriti noi ci diciamo come vediamo gli spiriti ma loro come vedono noi gli spiriti ci vedono come noi vediamo loro come delle molecole ci vedono a scatti ci vedono come una connessione internet lenta e disturbata e quando gli spiriti ci possono parlare chiaramente quando dormiamo quando anche noi facciamo un'esperienza extracorporea nella quale poi non ricordiamo nulla ma quando noi dormiamo per loro siamo vivi quando noi siamo svegli in realtà il nostro corpo fisico non appare integro noi pensiamo che il loro non lo sia ma siccome loro hanno la padronanza sia del loro mondo che del nostro essendo passati dall'altra parte possono con certezza affermare che il vero mondo integro è il loro e siccome noi non abbiamo noi abbiamo solo pochi sensi a disposizione e non il senso giusto diciamo così non il senso giusto per vederli correttamente li vediamo un po' offuscati come un'ombra come un vapore e anche qui Luca correggimi se sbaglio però loro ci vedono integri soltanto quando noi siamo al loro livello spirituale quindi quando facciamo un'esperienza spirituale quando dormiamo prevalentemente o quando moriamo mi dicevi Luca dicevi qualcosa no no condivido pienamente quello che stai dicendo infatti lo sto zitto perché poi racconterò aggiungerò anche io qualcosa quello che tu benissimo l'ho letto quindi interessante poi la corrispondenza con tante cose che poi dirò insieme prego prego bene no veramente anche a me questo libro mi ha stupito perché anche qua quando parla di forza occipità io non ho conoscenze mediche né anatomiche specifiche quindi ragazzi ha stupito anche me e devo dire che nella stesura di questo libro più di una volta io ancora non sono pienamente non mi lascio pienamente andare io scrivo poi non c'è qualcuno lo guardo e dico guarda mi diceva guarda vai guarda su google guarda mi diceva hai ragione ogni volta così anche su alcune terminologie cioè io pensavo di conoscere abbastanza bene la lingua italiana di essere abbastanza padrone del lessico della lingua italiana però alcune parole evidentemente mi sfuggivano no infatti per esempio faccio un esempio a un certo punto lui parla del fatto che stava scalando una montagna con un vento fortissimo e mi dice e mi detta mi stava dettando il vento ci fiaccava io mi sono fermata ho detto perdonami sai forse mi prenderanno in giro perché fiaccare vuol dire stanca guarda fiaccare vuol dire appunto essere essere colpiti essere sferzati dal vento cioè in questo caso dal vento quindi come posso dire lui mi ha messo sempre io l'ho messo alla prova ma lui mi ha sempre dimostrato di essere effettivamente lui cioè con questo volevo dirvi che se avessi dovuto scriverlo io questo libro avrei usato termini diversi cioè mi rendo conto che non è mio è completamente dettato mi ha lasciato quattro pagine infatti si chiama uno spazio tutto per me in cui potevo svidarmi e raccontare un po' quello che vi sto dicendo un po' la mia esperienza come l'ho conosciuto la mission come la mission come dicono ormai tutti questi temi in inglese quindi mi ha lasciato un piccolo spazio di protagonismo per poter un po' raccontare anche l'esperienza di come la stavo vivendo io ma per il resto questo testo è completamente dettato guarda vi leggerò altre due righe e poi vi faccio vedere le immagini i disegni dei quali vi parlavo un altro passaggio quindi concludendo con i leganti i leganti non solo fanno parte non solo sono un collante dei vari strati dello spirito ma fanno parte anche del corpo fisico per farlo apparire più integro il perimedion ecco sul perimedion lui mi ha ascoltato un pochettino perché inizialmente lui l'aveva chiamato perimason però far ridere un po' perché io dopo gli ho detto guarda però se lo chiamato perché perimason lui in realtà usava il termine greco perimason meson in greco vuol dire mezzo per quelle poche conoscenze di greco che ho fatto il classico quindi un pochettino conoscevo quindi ho capito subito quello che lui voleva dire perimason cioè a metà intorno però ho detto guarda se io dico perimason un pochettino qualcuno mi prende in giro e allora ha detto guarda facciamo così mezzo latino e mezzo greco perimedion così tagliamo la testa al toro il concetto è lo stesso si ha capito che effettivamente poteva scatenare una risata che diciamo in realtà era un po' controproducente perché distraeva l'attenzione il perimedion allora si chiama perimedion il perimedion perimedion è l'anima dell'anima è la fase cuscinettro tra periandron e perispirito si costituisce di gelatina trasparente alla vista sembrano cristalli di sale e serve per distinguere la parte dello spirito dedicata alle memorie dalla parte dello spirito che registra il presente è una membrana conica della cassa allora assomiglia scusate assomiglia alla membrana conica della cassa di un amplificatore audio e come tale il perimedion spiriticamente significa resta in ascolto di te stesso proprio perché abbiamo detto che collega il terreno con l'eterico lo spirituale con il personale il terreno quindi è un cuscinetto che si trova tra la memoria che noi abbiamo le memorie precedenti spirituali e le memorie terrene quindi quello che succede ogni giorno che poi viene elaborato dal nostro conscio inconscio l'ultima cosa della quale parla Elia sono i propulsori micromolle collegate più o meno all'altezza dei fianchi del corpo si trovano qua all'altezza dei fianchi del corpo fisico e sono indispensabili per lo spostamento dello spirito di un incarnato nei regni ultraterreni incide tantissimo sulla capacità di uscita temporanea dal corpo fisico in moltissimi casi quando si ritiene necessario l'uscita è facilitata da soccorritori e dal perno entrambe entità disincarnate e con riflessi energetici di ampia motività ve la faccio breve questa i propulsori sono delle molle dice che ci aiutano a uscire dal corpo sia nel momento in cui saremo chiamati ma soprattutto quando noi per quelli che sperimentano l'uscita volontaria dal corpo o anche di notte quando la notte dormiamo e dobbiamo raggiungere in casa nostra quindi praticamente questi ci aiutano a uscire e mi è successo in un'esperienza un anno o due anni fa che siccome ero veramente molto stanca ero nel periodo che pensate che allattavo quindi la notte non dormivo mi svegliavo ogni ora e dovevo assolutamente raggiungere una classe spirituale di teologia alla quale quella volta c'era anche l'amico Luca poi glielo ho raccontato questo sogno questi spiriti mi aiutavano a uscire dal corpo e poi ho trovato corrispondenza nel testo facevano il famoso perno c'era il soccorritore e c'era il perno c'era il perno che era fermo intorno al quale io avrei dovuto girare con i propulsori e c'era il soccorritore che mi aiutava e mi teneva fermo perché il sonno la stanchezza del corpo fisico incideva sull'uscita per farvela breve adesso vi mostrerò in anteprima questi disegni vi ripeto fatti a mano e di mio pugno non sono disegni fatti dettati dall'entità ok sono disegni che lui mi ha fatto vedere e che io ho riprodotto adesso mi direte se si vede ecco ecco questo è il cono di luce anche i colori sono stati decisi da lui e sotto io gli chiedevo cos'è quel vortice lì questo me l'ha scritto lui eh questo invece è stato scritto come posso dire è scrittura automatica cos'è quel vortice lì è energia forza motrice e questa è la firma che vedrete su tutti i disegni questa l'ha messa lui alla fine del disegno prendeva la mano e scriveva lui cono di luce guardate quanto è guarda quanto è alto e qua c'è la data in cui è stato fatto ve lo mostro ancora un attimo perché purtroppo sul libro lo trovate ma è in bianco e nero abbiamo fatto di tutto il possibile per poter farlo venire a colori ma Amazon lo fa soltanto così non ho problemi sì ti sento un po' a scatti vai ok questo qua è il funicolo allora anche qui lui scrive Elia cos'è quell'aureola rossa è il periandron ora vi faccio vedere bene vedete qua vedete che rosso questi poi disegni li faremo vedere alle conferenze agli incontri che facciamo li facciamo passare tra tutti i passanti mano per mano così potete vederli leggere e qua lui spiega attraverso il disegno l'ascendenza quando usciamo dal corpo per via volontaria per esperienza extracorporea veniamo appesi quando invece siamo chiamati perché il nostro la nostra vita terrena finisce siamo chiamati da Dio siamo sospesi vedete e qua si firma Elia anche qua vedete i colori su certe parti proprio mi ha detto lui no no qua dai un po' di rosso qua fai così qua ecco bene poi questo è il periandron e qua fa proprio il disegno quando dice dalla parte della testa fino alla parte anteriore del cranio e qua fa vedere proprio che è tutto rosso si parla di strati ma in realtà non di che dimensione abbiano quindi l'idea di strato a noi terrestri ci dà l'impressione di qualcosa di sottile invece hanno la loro ampiezza e qui c'è scritto anche un periandron danneggiato alla vista appare integro quindi non è detto che noi siamo a posto anche se sembra che sia integro quindi il libro consiglia anche delle preghiere da fare per aiutare questi strati del corpo ad essere puliti da energie e sempre risplendenti brillanti come nel primo giorno che siamo stati chiamati questi sono i leganti lui li fa come delle gocce guarda che vanno fra tutti gli strati strato per strato e qua dice i leganti più simili a gemme sono gocce di divina grazia cioè Elia ci fa capire che tutte le cose che ci vengono donate da Dio e con il nostro corredo con il quale veniamo sulla terra anche le cose più piccole hanno un'importanza micidiale anche le cose che noi diremo illeganti sono dei cuscinetti gemme sono simili a gemme e sono regali della grazia di Dio ecco e con questo vi ho mostrato un pochettino gli strati dello spirito anche per capire insomma quello di cui noi siamo fatti come ci vedono loro allora a questo punto cosa vede il medio adesso andiamo a cosa vede il medio allora per iniziare con questa tematica io vi devo leggere la frase che mi ha psicografato questo questa nuova guida con la quale adesso affronteremo questo nuovo testo che lui mi ha detto per il momento che sarà riguardo la teosofia io la teosofia l'ho studiato un po' un po' quando facevo l'insegnante di religione cioè sono ma non è che facevo ma non è che facevo ma non è che facevo cose grandi cioè hai capito quindi niente adesso io scriverò quello che è detta e va cioè capisci non è che ho competenze teosofistiche però lui mi aveva detto che questo vi dirò un dettaglio vi dirò un dettaglio lui mi ha detto e sono Agostino e e sono un teosofista e insieme scriveremo un libro si è presentato così insieme scriveremo un libro che si chiama col permesso del cielo e mi fa ho scritto tanti libri ma chi è questo ma chi è ma chi è ma chi è ma chi è Agostino ma chi è questo Agostino Luca conosci quattro Agostino tra i teosofisti Luca no Antonella guarda non è una cosa ma potresti chiedere all'Accademia insomma la rava della fava ragazzi dopo tanti mesi dopo tanti mesi e preparando questo incontro ecco perché dopo è venuto fuori devi fare questo tema devi parlare di questo e un giorno stavo guardando fra i teosofisti e mi sento toccare la mano e questo mi è caduto l'occhio su un Agostino ma che non era Agostino era August non so se August Strindberg adesso io non posso più dire non so se lui o no no perché adesso mi ammazzerebbe nel senso che dovrei avere la maturità spirituale giusta per dire può succedere può essere che sia lui adesso che ha bisogno di parlare se voi leggete qualcosa su Strindberg lui non era un teosofista ha studiato teosofismo ha scritto qualche testo teosofista ma lui era un poeta e guardate bene come casca la cosa forse per questo che mi ha contattato non so perché anche io scrivo poesie per simbiosi non so come dire per similitudine allora era un poeta scrittore ma lui ha scritto ragazzi lui era amico di Ibsen lui con Ibsen si chiama codice Ibsen il codice che determina la quantità di libri pubblicati durante cioè questo qua ha scritto una marea una marea di libri e a quanto pare anche post mortem sta continuando tra quelli che al mondo hanno scritto più libri dopo Ibsen è lui quello che ha scritto più libri al mondo e ha scritto anche trattati di teosofia pensate che era anche amico di Nietzsche allora cosa vede il medium cosa mi dice questo August Strindberg vedere è completare la visione e la mente che significa la visione che la spiega è quello che vi ho detto prima io vedo perché credo non se non vedo non credo cioè se io non vedo forse perché a volte non credo vedere è completare la visione quindi vedere è uguale a capire per avere una visione efficace c'è bisogno di quattro passaggi attenzione questo è sempre quello che mi ha detto lui quello che mi vorrei trasmettere poi parliamo di esperienze personali poi andiamo più questa è più più didattica però è importante secondo loro è importante che queste cose si sappiano che magari non vi rimarrà niente vi rimarrà solo l'esempio che vi farò dopo empatia vuol dire capire la situazione capire l'emotività dell'altro simpatia simpatia concordanza di sentimenti concordia quindi col cuore l'epatia l'epatia generano il fluido del medium il fluido del veggente il fluido della visione questo fluido altro non è che energia è l'energia che genera la visione perché tante volte uno stesso spirito non contatta tutti i medium del mondo lo spirito sceglie il medium come abbiamo detto tante volte in base all'empatia in base a determinate caratteristiche in base alla consonanza emotiva ed è il fluido che il medium propaga nel momento in cui si dispone in una modalità di ascolto verso gli spiriti in questo momento nasce la visione tante volte all'inizio ragazzi quando io allora io vedevo sin da bambina ok però c'è stato un periodo che per paura io dicevo ragazzi se io vedo qualcuno divento buddista dicevo fai scherzare perché avevo paura perché la paura è lecita tanti dicono ma non hai paura ovvio ma ovvio ragazzi ma c'è se voi pensate che questi spiriti conoscono il loro mondo nuovo diciamo quello di disincarnati e anche il nostro e riescono a toccare le cose a spostarle come fate a non aver paura ovvio che voi invece avete soltanto a che fare col mondo fisico e tante volte non li vedete è ovvio cioè è una lotta impari e su due terreni diversi ovvio che fa paura e fa spavento però dopo dopo un po' capirete che fanno più paura agli esseri umani ecco gli incarnati infatti dopo non ho più potuto rinunciare alla presenza all'amicizia alla compagnia dei disincarnati e allora a quel punto ho detto sia fatta la tua volontà e ho ripreso queste visioni più forti però ecco all'inizio dicevo a Luca Luca ma tu come vedi ovvio che ogni medium vede in maniera diversa a seconda delle sue capacità a seconda che poi non parirei neanche di capacità perché non è un primato una lotta a chi ha più poteri che no è a seconda delle proprie propi doni no? e anche delle proprie capacità come posso dire velleità cioè se per dire non so un medium è più portato a sentire che senso ha che veda? cioè a lui gli basta sentire e nella mente già lo vede ok qui cioè capisci mi dai ragione no Luca cioè non è sempre un vedere allora nel mio caso io cosa vedevo io vedo ancora dei flash io sto parlando con Luca e magari all'improvviso vedo una sagoma va bene questa sagoma però mi restava poco tempo negli occhi e dicevo Luca però ecco perché anche parlo veloce quando ho una uno spirito è sempre quello però eh eh anche uno spirito che mi deve dire qualcosa perché era veramente è veramente è veloce questa visione e allora cosa dicono gli spiriti in aiuto a questo non è sbagliato infatti ma forse è sbagliato forse sono io non è niente sbagliato quello che ho imparato e che vi voglio trasmettere sia a quelli che mi ascoltano in questo momento dei giovani medium che mi ascoltano che vogliono imparare ma anche a persone normali che vogliono magari cimentarsi in questo migliorare la propria visione e questo qualsiasi cosa e questo me lo sta dicendo in questo momento Agostino qualsiasi cosa vi viene data eppura perfetta e sacra punto se vi viene data così è perché è giusta per voi è come dire ogni naso sta bene sul suo viso che tant'eroma il mio naso ogni naso sta bene sul suo viso certo il mio naso in faccia sul viso di Luca era inappropriato ogni naso sta bene al suo viso ogni cosa ogni dono ogni modalità ogni capacità che ci viene concessa è giusta per noi in questo momento in questa incarnazione in questa vita e per sempre amen 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 punto punto e non ce n'è quindi se non avete il dono della visione non è che perché non avete questi poteri non è un potere è una capacità come un'altra magari uno non ha il dono della visione ha il dono della scrittura non ha il dono della scrittura ha il dono dello spostamento degli oggetti ne ho viste tantissime ragazzi più leggete più vi informate e più ce ne sono di doni che neanche non sono stati scoperti ci sono persone che riproducono con la propria mano quadri di Klimt e magari è Klimt che da morto glieli fa riproporre perché anche l'arte è bellezza anche l'arte è un messaggio non è soltanto un guarda come sono bravo a riprodurre il Klimt no guarda come Klimt riesce ancora a dare bellezza a questo mondo ok lasciamo stare questo discorso allora e quindi Luca quella volta cosa mi ha detto mi ha detto ti devi concentrare sui dettagli perché se loro pensano che con te funziona questa modalità cioè che tu devi vedere come un flash di una macchina poi il bello era che dopo il flash anche i colori andavano via via sbiadendo avete presente come quelle vecchie macchine fotografiche che facevano quel flash grande grande e dopodichè l'immagine si ritrae e questo è quello che io vedo e all'inizio era una difficoltà pazzesca perché io dovevo ricordarmi tutti in dettaglio cioè c'hai la persona vicino che vuole contattare il defunto e tu devi dirgli tutto quello che hai visto ma come fai a ricordarti tutto se l'hai visto in un secondo allora a quel punto a quel punto Luca mi ha dato un consiglio che è quello di studiare i dettagli di fare degli esercizi di visualizzazione mi diceva per esempio tu pensa a una macchina un'auto e allora pensa studiala guarda nel dettaglio la tocchia è di acciaio è di ferro è così è costruita da ferro e dentro c'è il velluto no? e pelle dentro che colore è? e poi guarda c'hai l'unotto come sono i dettagli come sono come è fatto il tergicristallo e come sono fatti i sedi posteriori e guarda le ruote e guarda scomponi i dettagli quindi per ogni cosa c'è uno studio c'è un modo per migliorarsi allora grazie a questo che l'ho fatto l'ho fatto questo lavoro la macchina puoi immaginarti qualsiasi oggetto oppure anche senza fare meditazione prendi una matita e osservala bene ah è rossa rossa ma è liscia sai che le matite di solito sono esagonate ma questa è liscia è liscia ma è rossa e che rosso è? è un rosso squillante e infatti c'è scritto neon e poi alla fine cos'ha? ha una punta in ferro con una gomma sta gomma cancella rispetto alle altre e poi c'è una eccolo questo è l'esercizio che bisogna fare per visualizzare se avete delle esperienze simili alle mie ma con questo vi voglio dire che non c'è una modalità di visione però c'è un modo per arrivare alla visione il modo per arrivare alla visione è sicuro e poi lo vedremo alla fine e Agostino mi ha dato un elenco di cose da fare per aiutarci a vedere in ogni modo e allora in questo caso cosa vede un medium? adesso mi dico la mia esperienza e allora a questo punto io dovevo guardare immagine per immagine tutto quello adesso posso dirvi che cosa aveva in mano la persona che ho visto come era acconciata e se c'è necessità anche i piedi a volte la visione si ferma fino al bacino perché non ci interessa vedere il sotto no? però se questa persona risiede a rotelle o se era sul letto o se questa persona aveva delle pantofole rosse e le pantofole rosse gli erano state regalate dal committente del contatto è importante che io le veda ok? quindi loro si mostrano sempre fino al busto dal busto in giù soltanto quando il dettaglio è necessario alla dimostrazione che sono proprio loro e quindi cosa succede? io vedevo questa immagine sfocata va bene? ho dovuto fare esercizi di visualizzazione per fare in modo di vedere meglio adesso la visione dura un poco di più la visione con l'occhio fisico parliamo ma poi la visione si completa nella mente questo adesso mi ha portato a studiare anche queste cose che erano lontane da me lui mi ha parlato di neuroscienze localizzazione della coscienza ve la dico proprio come se fosse la frittella perché non è una cosa che voi avete è un po' complesso praticamente loro parlo di localizzazione della coscienza la coscienza la chiamano strutturale funzionale cioè la parte strutturale è la parte di neuroni sinapsi quelle cose che ci servono a livello scientifico per capire vedere ed è quello che mi aiutano a guardare con l'occhio fisico uno spirito è come se fosse una persona a volte non riconosci la differenza cioè tu vedi sembra una persona solo che poi svanisce ok allora ti rendi conto che è uno spirito dopo è la mente che elabora e qua interviene la neuroscienza funzionale cioè come queste sinapsi tu le utilizzi personalmente con la tua coscienza come le utilizzi per sviluppare questa fotografia che hai appena ricevuto con l'occhio fisico ecco perché dice Agostino vedere e completare la visione è la mente che significa la visione cioè sei tu che dai un significato a questa visione ecco perché credere vuol dire vedere ecco perché io vedo perché credo altrimenti non daremo spiegazione a tante piccole incidenze che capitano quotidianamente tante piccole coincidenze che ci capitano quotidianamente cosa mi diceva cosa mi dice Agostino per vedere lo spirito giusto punto uno lo spirito giusto mi devo predisporre con lo spirito giusto qual è lo spirito giusto non sicuramente ragazzi questa veramente ve la voglio dare perché le leggo ogni giorno non credere a tutto lo spirito giusto è lo spirito di un ricercatore è uno spirito un approccio scientifico oh stavo mangiando un pezzo di pane mi è caduta una mollica a forma di cuore no per favore non cadete in questa cosa dovete avere anche una mente che deve scremare un pochettino queste cose perché altrimenti poi il messaggio corretto non arriva allora lo spirito giusto predisporsi correttamente io sono qua io ascolto non è sbagliato fare delle domande se vi capita di essere in casa e dopo aver chiesto agli spiriti alle guide a Dio che vi mandi una visione che vi mandi uno spirito di un caro se succede qualcosa che finalmente vi arriva la visione cercate di restare saldi tranquilli predisponetevi con serenità perché tutto quello che vi viene è giusto e santo e sacro ricordatevi non è mai dato per farvi spaventare se l'avete chiesto con la giusto spirito allora vi predisponete correttamente se mentre state a casa così nel silenzio aspettando che vi arrivi qualche cosa un segno è lecito e sentite gocciolare no un attimo guardate se il rubinetto che gocciola quindi uno spirito un poco più scientifico va bene perché è giusto questo è dare importanza al messaggio che vi arriva altrimenti è come far perdere importanza al messaggio spirito il modo di guardare a un obiettivo anche questo mi ha fatto leggere tutto qualche stato a leggere il metodo di il modo di guardare un obiettivo lo farà diventare più facile più difficile ve lo do così non vado a approfondire più guardate questo obiettivo come qualcosa di semplice come qualcosa che vi viene dato come semplice alla vostra portata e più sarà realizzabile io mi preparo per avere una visione esercitarsi sul dettaglio questo è il metodo Gardin esercitarsi sul dettaglio quindi vi ho spiegato fate meditazione esercitatevi a guardare le cose con particolare con come posso in maniera particolareggiata con spirito attento critico fidarsi della propria impressione ecco volevo arrivare qua ecco perché non ho approfondito alcuni punti precedentemente fidarsi della propria impressione ho sentito un rumore ma no ma va là l'ho sentito vado a vedere vado a vedere il rubinetto no non è nel rubinetto è la finestra aperta ok era la finestra aperta però fidarsi di qualsiasi impressione vi viene data perché ripeto è sacra santa e vi viene data per un motivo fare caso alle piccole cose che sembrano accidentali anche nella vita quotidiana vi succede che guarda caso mentre ero a casa non so mi è caduto l'occhio su non so si è accesa la radio su una stazione musicale con una musica che proprio quella era ok non essere troppo sentimentalisti quindi uno spirito critico come vi dicevo però anche fare caso a questi dettagli restare fissi sulla visione ecco qua si apre un capitolo che da questo momento in poi non sarete più gli stessi abbiamo detto che voi avete chiesto la visione l'avete chiesta ecco quando vi arriva se vi arriva non scappate ovvio che è umano saltare dalla sedia no 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 ragazzi serietà abbiamo cerchiamo di avere rispetto per quello che ci viene dato se quando siamo pronti di affrontare questa cosa magari lo fate di giorno ragazzi ma quando vi sentite pronti vi mettete spirito giusto vi mettete pronti vi mettete tranquilli in una stanza sapete che quello che vi viene dato non viene dato perché non avete la capacità ma vi viene dato sulle vostre capacità restare fissi sulla visione quando vedete qualcosa all'inizio possono essere anche ammassi di ombre va bene perché in realtà ecco questa è una cosa che mi ero dimenticata di dirvi che invece Agostino puntualizzava loro in realtà sarebbero degli orb quando voi vedete l'orb quelle palline di luce in realtà loro sono quello loro si muovono così è la mente che significa la visione è il vostro fluido che in quel momento fa diventare quell'orbo un corpo che il vostro occhio può vedere può riferire agli altri poi ditemi se sono stata chiara fatemela di nuovo questa domanda se non è stato chiaro perché so che è veramente difficile questo è un terreno minato vi ripeto la teosofia non era un mio terreno se non per conoscenze scolastiche basilari però loro vogliono che dobbiamo elevare le nostre vibrazioni a questo concetto a questo nuovo linguaggio basta parlare di spiriti con le catene di spiriti che si aggirano nei castelli quella è una verità è la verità è una cosa ma parliamo di spiriti umani che si generano sempre spiriti umani di spiriti di persone disincarnate che vogliono ancora oggi aiutarci e darci testimonianza loro dicono che loro in realtà si muoverebbero tranquillamente come fossero degli orbi nel nostro mondo nel nostro mondo sono i famosi orbi quelle sfere di luce ma noi tramite l'empatia eccolo adesso ne ha perso uno noi tramite l'empatia la simpatia del medium lo spirito giusto noi emaniamo un fluido che è capace di dare a loro un corpo attenzione ragazzi questi sono concetti veramente importanti gli diamo un corpo in modo che il nostro occhio fisico può vederlo e può dire qualcosa alla persona che ci sta chiedendo noi come medium parliamo del medium come professione come aiuto come aiuto al prossimo non abbiamo bisogno di vedere lo spirito infatti tante volte io ho l'impressione che ci sia e loro non hanno bisogno di farsi vedere con me se non anche tramite un piccolo flash di luce come tramite orgo o mi toccano allora so che ci sono io ci parlo quindi io non ho bisogno di vederli io ho bisogno invece di vederli con l'occhio fisico nel momento in cui devo fare un contatto con una persona incarnata che mi sta chiedendo di parlare col suo caro ed è qui che subentra il fluido del medium il fluido è fatto di non paura di coraggio di fermezza quindi quando voi all'inizio della vostra delle vostre prime visioni ok quando comincerete a vedere vedrete degli ammazzi vedo delle energie vedo muoversi qualcosa vedo delle palle di luce restate fissi sulla visione non abbiate paura io vedo quel cos'è che quando vedono i fantasmi e dai spirito manifestati riesci a muovere il K2 riesci a far muovere questa mattita quando quel povero disgraziato di spirito riesce a muoverla scappano ma che ricercatori siete cioè vanno a prendere per i fondelli perché il ricercatore deve essere fermo non deve aver paura anche perché adesso vi dico una chi ha corpo comanda mai uno spirito di un disincarnato può farvi del male se non intimorirvi ecco lo spirito di un disincarnato molesto può intimorirvi ma non può farvi del male e soprattutto non può far niente all'interno della vostra anima non può entrare dentro di voi se voi non date un permesso quindi fermi immobili questa l'avete voluta questa visione vi è stata data abbiate la fermezza abbiate la fermezza alle fermi e osservare sgranate bene gli occhi sgranate bene il vostro cono di luce ecco perché vi parlavo di strati dello spirito ne abbiamo usiamoli acquistate questo libro ragazzi ripeto i proventi non vanno a me perché poi io tutto quello che intanto quando lo comprate i soldi vengono dati da Amazon poi vengono bonificati a me ma dopo diversi mesi perché non è che ti danno 10 euro di libro 10 euro di soldi quando io ho la cifra io manderò questi libri alle associazioni in modo che le associazioni poi possano venderli e il ricavato va a loro stessi quindi per tenersi in piedi queste associazioni spiritiche quindi non vi preoccupate non è che io lo dico per farmi per farmi pubblicità o perché magari dopo io quando faccio le presentazioni poi e non so magari mi faccio pagare no ma per voi specialmente per quelli che vogliono approfondire la materia e studiarla bene e avere rispetto dei spiriti restare sulla visione ci aiuta anche a fare quello che diceva Luca a curare i dettagli guarda bene cosa stai guardando ma è una sfera no è qualcosa che no è un puntino bianco ok allora nella mente gli devi dire no a questo spirito io ti vedo dai non ho tanta paura fammi vedere qualcosa di più dai e allora poi praticamente piano 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 un po' vi aiutano loro un po' voi si attiva questo fluido e comincerete a vedere un po' meglio non tutti sono portati alla visione cioè adesso questo non è un incontro per sponsorizzare dai guardiamo perché tutti siamo capaci di vedere dall'inizio vi ho detto non è che tutti abbiamo questo dono alcuni ne hanno di altri però chi si sente portato chi pensa di poter migliorare ecco questo è quello che può fare poi ringraziare ecco si può ringraziare anche non scappando anche ringrazie grazie mi stai mettendo tanta paura ma tanta ma tanta tanta ti ringrazio che sei qui per oggi è abbastanza ecco questo potete dire non è che siete la vittime loro che loro possono fare quello che vogliono cioè voi avete chiesto ma se avete tanta paura piuttosto che scappare ringraziate e salutate scusatevi sono persone anche loro sono state persone anche loro va bene sono esseri anche loro quindi ringraziate e scusatevi quello che fareste con delle persone normali quindi scusarsi dà loro importanza e fa capire che voi siete con un nobile intento mai sfidare un'entità mai sfidare un'entità quindi mai fare questi incontri per far vedere agli amici cosa vuoi fare mai far domande troppo che loro non possono rispondere mai sfidarle beh ma allora fammi qualcosa di più cosa stai facendo ma no fammi qualcosa di più mai sfidare un'entità perché non vi succede niente non è che loro vengono e vi danno botte non vi succede niente semplicemente vi verrà tolto questo dono della visione perché non avete la nobiltà d'animo necessaria per poter fare questa cosa ed è giusto così e ascoltare senza giudicare questa è stata una delle mie sfide e ancora tutt'oggi penso che sarà questo l'obiettivo della mia esistenza Luca mai giudicare se vi dicono A e A basta perché giudicare ma ho visto bene oh tu oggi hai visto questo domani oltre a quel puntino di luce vedrai anche un paio di occhiali sfocati allora forse è una persona con gli occhiali dopo domani se avrai ancora fermezza e coraggio vedrai anche non so i capelli di questo spirito quindi non giudicare tutto quello ripetetelo sempre tutto quello che vi viene dato è perché è giusto è sacro è santo in quel momento è all'altezza delle vostre capacità è all'altezza delle vostre capacità psichiche e dei vostri nervi quindi tutto quello che vi viene dato non è mai per farvi del male per nuocevi non è mai una sfida e l'ultima cosa l'ultimo punto questo l'ho aggiunto io e non è di Agostino però mi ha detto mi ha detto perché questo Agostino è di poche mentre Elia era di tante parole era come me questo Agostino fa solo e lo posso aggiungere accompagnare all'uscita allora mi è successo proprio ultimamente ecco perché ho detto Luca diventa sempre più saggio ultimamente in casa ho uno spirito che non non andava via però non sapete allora dovete capire questo che se io sapessi tutto e tutte le mie copie ma che figo c'ho una medium allora chissà quante cose saprai no? quante cose per te sono più facili? no e Luca mi rivederà se ho ragione o no? no perché assolutamente noi delle cose nostre non sappiamo cioè noi dobbiamo andare ad altri metri un per sapere le cose nostre noi le cose nostre no allora se tu puoi vedere puoi vedere quello che è quello che c'è però non hai più capacità degli altri di districare alcune situazioni assolutamente perché anzi più sono cose tue più fanno parte del tuo karma più tu non puoi essere aiutata se hai degli spiriti guida ti possono dire solo questo sì Antonella ma non possiamo fare niente tu e il tuo karma te lo devi vedere tu e allora avevo questa entità a casa di questo spirito tra i tanti c'era questo bambino c'era questo bambino e avevo contattato una mia amica medium per avere anch'io un aiuto no? però questa medium non vede non ha questa capacità né altre e quindi lei mi si faceva in qualche modo aiutare da me diceva lo vedi? e dov'è? è là era sotto la culla di mio figlio io ho due bambini sotto la culla il letto del più piccolo e mi diceva aveva capito più o meno chi fosse come mai fosse lì e mi diceva infatti si agganciava Luca a questa cosa perché assomigliava a mio marito era praticamente identico a mio marito è identico a mio marito identico e allora diceva che era lì per mio marito diceva che era un figlio di mio marito in una incarnazione precedente e ha aiutato Daniele a dire grazie ecco grazie ti ringrazio che sei venuto fino qua per stare con me fatto sta che questo non è il tuo questa medium mi ha fatto dire queste cose fatto sta che questo non è più il tuo mondo non c'è questo è un mondo terreno la nostra vita insieme era in quel momento adesso qua è un'altra cosa dovresti raggiungere la luce e andare oltre l'abbiamo fatto due tre volte e io continuavo a vederlo lui si nascondeva proprio fatto sta che la medium è andata via pensavamo che fosse andato via ma invece io l'ho visto ancora e a quel punto mi sono scusata con questo spirito ho detto ma allora tu non volevi andare via ho sentito Luca e ho detto Luca ma sai ho parlato con questa nostra amica e Luca mi ha detto Antonella tutti quelli che vengono qua sulla terra vengono per un motivo non è che noi ci dobbiamo mettere la mattina a scacciare tutti con più frasi in dialetto veneto e parolacce però ha fatto morire ha detto non è che noi ci dobbiamo mettere la a scacciare tutti dalla mattina alla sera uno spirito che è qua è qua per un motivo mi fermo perché va a scatti mi fermo un attimo ok forse va bene ok e quindi bisogna chiedere che fai perché sei qui hai bisogno di aiuto forse sei qua per completare qualcosa ecco noi lo stavamo mandando via vicino agli altri che in realtà erano da mandare via in quel caso c'erano delle entità un po' pesanti che andavano mandate via in quel momento quindi erano veramente cattive quelle entità nel senso che si aggrappavano a questi strati dello spirito motivo per il quale anche ci sono delle preghiere specifiche io da sola non riuscivo e quindi mi sono fatta aiutare in quel caso c'era anche lui e nel pacchetto e nel pacchetto era stato mandato anche lui però giustamente dopo capito Luca mi ha detto una cosa importante e mi ha portata sul terreno cioè per quanto la cosa si parla di spiriti lui mi ha portato sul piano terreno fai delle prove più che fare più che mandare via spiriti chiedi cosa fai cosa non fai vuoi toccare questo mi sposti qualcosa mi muovi questo vuoi parlare con me vuoi che riusciamo a trovare una soluzione perché potrebbe anche essere qua perché non so magari che ne so una nuova incarnazione vuole tornare sulla terra indifferentemente quindi ecco l'approccio scientifico alla materia spiritica ecco il corpo dello spirito uno spirito che ha un corpo uno spirito che ha una sua integrità lo corpo dello spirito è più integro del corpo dell'essere umano terreno incarnato ecco perché la visione è possibile ma per essere efficace ha bisogno dei passaggi dei quali abbiamo parlato allora Luca io in realtà la parte teorica l'avrei finita hai qualche domanda da farmi c'è qualcuno che vuole ho scritto alle persone innanzitutto perché mi ha scritto un po' tardi che comunque dopo sotto la diretta puoi controllare se ci sono qualche domanda che verranno fatte dopo la diretta puoi rispondere ecco la cosa bella che condivido tutto quello che hai detto perché ti spiego anche perché prendevo appunti mentre spiegavi perché anche la connessione quelle piccole voci quelle piccole tipo come petali può essere anche se tu lo rapporti per un esempio scientifico nel corpo umano si chiama tessuto connettivo per esempio che è quel tessuto che serve per tenere la carne incollata all'osso quindi perché no non ci può essere anche nell'anima questo tessuto che mantiene connesso i vari stati quindi anche questo che è bello interessante poi anche loro come ci vedono attraverso dei colori delle emozioni e tutto l'insieme e poi una cosa che mi ha colpito molto è stato quello del Perry Mason che tu hai messo che è una specie formato di sale però la cosa più strana che mi ha colpito è che per esempio lì vengono registrate tutte le nostre memorie però anche se tu ci pensi alle piastre dei computer sono fatte di silicio che è il sale di silicio che è un sale che racchiude la memoria del computer praticamente il processore viene creato con questa peculiarità quindi anche se noi vogliamo rapportare è veramente interessante quello che è scritto io quando ho avuto la possibilità di leggere il libro di Antonella io sto sempre zitto osservo e dico dopo le cose perché prima mi osservo mi confronto perché c'erano cose che mi hanno colpito per esempio anche degli ovoidi che sono delle entità particolari che lei non poteva saperlo non lo sa nessuno sono in pochi che lo sanno questi chi va un po' più avanti con delle letture che non sono non è ancora state tradotte in italiano quindi anche questa è la cosa più particolare soprattutto anche ringrazio Marzio Bugossi perché Marzio Bugossi è rappresentante diciamo che ha fondato il Paranormal 4B Investigation Team e ha condiviso con la sua ultima diretta le tue stesse idee infatti ha fatto vedere alcune foto delle sue ricerche ed è bello perché tutto il gruppo non scappava di fronte a a a la vibrazione del K2 e soprattutto la cosa che a me personalmente mi ha colpito di questo gruppo che approfitto anche per invitare ufficialmente a gennaio la gentilezza l'umiltà la nobilità nel rispondere nel dialogare nell'investigare anche con queste anime perché per esempio diceva lui che se lui entravano con il suo gruppo riceveva un messaggio andate via lui non stava lì a sforzare la comunicazione ringraziava e andavano via quindi sono gruppi rari che si vedono al giorno d'oggi di investigazione che frequentano questo ecco sugli orbs invece lì un po' devi stare un po' perché può è un argomento un po' molto difficile da comprendere gli orbs perché tanti in una casa polverosa si vedono tantissimi orbs soprattutto esatto per riconoscere un orbs serio ha una traiettoria e si ferma quindi se va da destra a sinistra senza motivo è semplice polvere pulvisco atmosferico che si vede però se ha una piccola punto che si ferma e mantiene una traiettoria e torna indietro ecco allora in quel caso lì si può parlare già di qualcosa di specifico ci sono tantissime teorie sugli orbs è bellissima anche la parte che hai espresso del fluido anche che in gergo viene chiamato etoplasma che il medium durante la connessione questo etoplasma che non è ancora stato scientificamente dimostrato mostrato perché sai le cose che non vengono dimostrate si nega l'esistenza però effettivamente è una connessione che serve per quindi durante il contatto medianico viene prodotto questo le vibrazioni tutto questo insieme di tutto quello che hai descritto è stata sicuramente una serata molto educativa e di divulgazione cosa che ci tengo a sottolineare ogni volta anche se divento forse ripetitivo nel gruppo però è un gruppo nato per formare le persone per divulgare e per dare insomma anche in allegria perché a volte spesso sono mi piace bisogna ammetterlo però a volte anche con allegria bisogna dare anche delle giuste nozioni che la gente deve imparare stanno arrivando adesso delle domande in diretta c'è anche la risposta poi di Marzio che ti risponde in diretta e ti saluta quindi sono molto molto ciao sono tutti c'è Gina c'è tutti quanti c'è Mario c'è tantissima gente che che ti dà delle bellissime risposte spero di non essere stata pesante Luca sai perché comunque erano concetti veramente pesantucci però ma è un oggettivo che questa diretta può essere riguardata non viene cancellata sicuramente deve essere rivista un'altra volta perché la gente entra in un concetto perché spesso anche quello che hai fatto l'esempio della briciola di pane purtroppo fatta forma di cuoricino tante persone hanno questa problematica che si fermano sulle prime apparenze non approfondiscono per questioni anche di pigrizia io sono un bastardo e lo dico la verità la gente fa fatica a studiare e a leggere e approfondire e si sofferma sulle prime cose perché accade questo fenomeno cosa è successo in quel momento che mi è arrivata anche quella famosa briciola a cosa stavo pensando a cosa stavo facendo chi avevo in mente quindi certo sono tanti segnali che devono essere interpretati per questo ti ringrazio per questa bellissima diretta che hai fatto veramente molto molto esaustiva sotto vari concetti anche del cordone molto è stato bello ricordare sono fatto un pulpurri velocissimo con la tua padantina di tanti concetti preziosi che sono importanti per chi vuole approfondire la medianità e come vedono tante persone intonella vedi in un modo io vedi in un altro gina vedi in un altro senti in un altro marisa ogni forma di percezione ogni persona ha una forma di percezione diversa quindi questo è anche il bello il confronto fra le persone questo confronto è importante ed è educativo soprattutto un confronto che deve essere di crescita costruttivo non distruttivo dire infatti con la stessa con questa bellissima umiltà hai dato una lezione bellissima questa sera ti ringrazio quindi di cuore e spero di riaverti anche il 22 l'augurio di buon Natale guarda Luca loro quello che vogliono in questo momento è questo loro dicono siete pieni di tecnologia no? ma questa dovete usarla per lo spirituale perché loro dicono cioè se voi studiate lo spirituale scientificamente nessuno più si chiederà ma ho capito bene non ho capito cioè diventerebbe una cosa normale se lo spirituale diventasse scientifico diventerebbe una roba assudata quindi loro vorrebbero semplicemente che noi usassimo le nostre nuove tecnologie rispetto all'espiritismo del 1800 loro dicono siete rimasti su quel livello là cioè loro vorrebbero che usassimo le nuove tecnologie per approfondire proprio lo studio scientifico dell'aldilà ma infatti c'è un libro bellissimo che tu hai toccato anche la neuroscienza che non esiste in italiano che si chiama nei domini della medianità dove questo medico spiega i meccanismi del cervello e della sua funzione durante la medianità è quello che a me colpisce io sto sempre zitto capisci perché in base a queste risposte che poi arrivano è una conferma ulteriore è una persona che non sa e dà determinati concetti è una conferma in più per andare avanti è anche una gratificazione se vogliamo così dirla per incentivare la ricerca su se stessi sugli altri e capire questo mondo spirituale che è sempre vicino soprattutto anche per questo momento difficile che sta affrontando tutto il pianeta è anche un incoraggiamento insomma questo è importante ti lascio se vuoi salutare concludere la diretta io vi saluto ovviamente ci sarà un altro momento per augurare un buon Natale io però vi invito veramente ragazzi col cuore a vivere a vivere lo spirito del Natale che cos'è lo spirito del Natale ragazzi lo spirito del Natale è il vostro compleanno lo spirito del Natale voi provate a festeggiare il Natale come fosse il giorno del vostro compleanno è l'uomo che ha la possibilità di rinascere ancora è la vostra scintilla di umanità cosa vuol dire umanità? empatia simpatia e fluido verso il prossimo e verso se stessi avete la possibilità ancora una volta di rinascere va bene ho sbagliato quello che è stato è stato va bene non ho rancore con me stesso mi perdono pace posso ricominciare è la scintilla di Dio e noi il Natale è la festa di queste famose gemme di questo collante che cosa significa secondo voi questo collante come si chiama che sfugge la parola perché vedete che non l'ho scritto io sto libro di questi eleganti il Natale è la festa dei eleganti i eleganti si trovano nel corpo fisico e negli strati dello spirito cosa vuol dire sono tutto tuo Dio sono tutto tuo dentro e fuori noi siamo tutti divini dentro e fuori non c'è nessuno di noi incarnato che non sia perfetto il Natale è la nostra festa quindi cerchiamo di viverla con questo spirito qua no ah sono triste perché non ho niente di cui festeggiare c'è sempre qualcosa di cui festeggiare perché sei qua sulla terra e hai sempre ogni giorno la possibilità di riprovarci basta grazie ricordiamo è finito il mio slogan è finito il mio slogan ricordiamo che il tuo libro si trova su Amazon sulla casellina di ricerca basta che scriviate Antonella D'Amato e lo trovate tranquillamente ed è bellissimo tra l'altro la perfezione l'ho fatta io grazie tra l'altro infatti quindi è stato bellissimo anche una bella esperienza anche un bel coinvolgimento grazie ancora e ci vediamo il 22 tu resta lì è vero è vero sì ecco ecco c'è anche sì la prefazione scusa Luca perché dopo la vai via nella tua voce c'è la prefazione di Luca e Leila che è molto importante anche quella la parte istruttiva del testo Leila e Luca perché la prefazione di 18 non la legge mai nessuno io sono di uno di quelli che le prefazioni invece no leggete con la prefazione di Luca Garbin e Leila va bene allora buonanotte rimanendo la connessione ok ok ciao a tutti ringraziamo Gina vi ricordo gli appuntamenti che nella prossima settimana verranno condivisi vi ringrazio ancora iscrivetevi al gruppo di Whatsapp che vi ricordo che serve per ricevere le informazioni delle dirette per rimanere sempre aggiornati le dirette rimangono sul gruppo nella giornata di domani grazie a Simona verranno anche rese disponibili sui canali YouTube dello specchio dell'anima e vi ringrazio ancora di cuore buona serata e buonanotte a tutti e vi ringrazio ancora